Lazio, immobile salta la rifinitura, ritrova Romagnoli e Milinkovic. Maurizio Sarri ha iniziato a preparare la sfida casellinga contro la Sampdoria, posticipo del lunedì della 24esima giornata di campionato. Il tecnico bianco celeste spera di recuperare gran parte degli assenti di Clu e oggi ha avuto buone notizie dal campo. Nel centro sportivo di Formello sono tornati infatti a lavorare Romagnoli, Milinkovic e Radu. Tre recuperi importanti in vista del match contro i Doriani guidati dall'ex Dejan Stankovic. Immobile a riposo Mattia Zaccagni, che aveva assaltato la trasferta in Romania per un problema influenzale. Ha lavorato solo in palestra. Ciro Immobile invece non si è visto sul terreno di gioco. Il capitano bianco celeste, affaticato dopo i 90 minuti giocati in Romania. Ha saltato la seduta di oggi. Sarà decisivo l'allenamento di domani per fugare tutti i dubbi sulla sua presenza contro i blucerchiati. Virgola.